Alla Milano Design Week presentiamo un divano modulare che esprime la fusione tra dinamismo e comfort. Il concetto alla base del progetto è un'idea, la volontà di voler rappresentare un senso di velocità, di movimento che affine al mondo Bentley. Sono molto soddisfatto di questo progetto in quanto ritengo sia un giusto collobio tra la rappresentazione dell'identità di Bentley e al tempo stesso racconta quello che è il mio gusto estetico, il fatto di pulizia delle linee, di attenzione verso il dettaglio, qualità dei materiali.